Ascolta, guarda, io vorrei approfittare, io ho un ultimo tema che mi piacerebbe tanto affrontare con te, diciamo, in questa serie di micropillole. Micropillole neanche tanto, perché ho visto che durano sulle 30 minuti, quindi neanche così pillole, diciamo, macropillole, ecco, chiamiamole così. Vorrei un attimo affrontare il tema e secondo me te sei super sul pezzo, su tutto quello che è nomadismo digitale, o comunque, insomma, lavorare oggi con, secondo me, strumenti un po' più intelligenti rispetto alla classica cosa, mi trasferisco dove c'è il mio lavoro, lavoro a 10 minuti da casa, faccio il mio lavoro, torno indietro e quindi una condizione abbastanza, come dire, tanto lineare, ecco, come concezione di quello che può essere la propria vita, no? Quindi casa, lavoro, 10 chilometri e mezzo, weekend fuori e via così. Ecco, insomma, mi piacerebbe avere una tua opinione personale, insomma, di come vedi sta andando, se ti reputi fortunato, se vedi una cosa scontata, insomma, dimmi pure cosa ne pensi e soprattutto quali sono i ragionamenti che stai facendo te sul tuo percorso lavorativo. Sì, assolutamente. Guarda, io decisamente mi ritengo fortunato e ormai è, diciamo, un anno e mezzo, quasi due, che lavoro da remoto e mi trovo veramente bene e ho cambiato due tipologie di esperienze da remoto con un'azienda prima con la quale lavoravo a Sydney e dopo mi sono spostato in Cina iniziando la collaborazione da remoto sulla quale non ero contentissimo perché l'azienda non era improntata da remoto, quindi tutti i miei colleghi o grossa parte di loro erano in ufficio e non c'erano delle dinamiche strutturate per lavorare da remoto e non ero contento. Quindi proprio per questo motivo ho iniziato a guardarmi attorno e ho trovato un'azienda fortunatamente sempre australiana dove invece l'approccio era full remote e c'è una grossissima differenza. Quali sono le cose che prima non ti andavano bene, ad esempio, e che invece adesso trovi che funzionano? Ma in primis a livello proprio organizzativo la gente è, diciamo, predisposta a comunicare con i vecchi standard, quindi mi serve qualcosa, mi alzo dalla scrivania, vengo, te la chiedo. Non c'era una reale interazione in tempo reale via chat o via zoom call, quindi era tutto molto lento, molto macchinoso, molto distaccato e freddo. Tante volte c'erano i meeting, non venivi coinvolto perché non eri lì sul momento oppure non hanno la strumentazione per fare un meeting dove tu sei in ufficio, loro erano in ufficio e tu sei da remoto, quindi microfono che non sentivi nulla di quello che dicevano, poi figurati. Oltre a non capire era tutto in inglese, quindi per me era amplificato all'ennesima potenza e quindi ti senti proprio completamente distaccato da quello che è il team operativo e il team di lavoro. Con un team tutto da remoto, tutto è strutturato in modo tale che tutti lavorino da remoto, quindi tutti lavorano con la loro postazione, fai dei zoom call, sai che è normale, se hai bisogno di qualcosa al volo di dire ok facciamo una chiamata su zoom, un quarto d'ora risolviamo. Ci sono tanti, per esempio anche solo in ufficio, hai le pause pranzo, hai il friday drink e quelle cose lì, che loro le gestivano e chiaramente di persona e facevano tutto tra di loro e tu sei completamente fuori da quei meccanismi. Un'azienda impostata da remoto, noi abbiamo tantissime sessioni durante la settimana, non dedicate al lavoro ma dedicate all'interazione tra noi come colleghi. Ma va? Tipo? Esempio? Tipo per esempio il mercoledì abbiamo una chiamata non con il team globale ma con diciamo i responsabili dei vari team dove si fa una mezz'ora di aggiornamento sui lavori delle rispettive aree e un'altra mezz'ora è puramente cheat chat come la chiamiamo noi, quindi parli del più e del meno come sta andando. Il venerdì invece facciamo una chiamata di gruppo generale tutta l'azienda e adesso stiamo crescendo, siamo circa 30 quindi la dividiamo. Zoom ha una funzione che ti, in modo random, ti crea due stanze. Perché cosa succede in questa call? Ognuno abbiamo un'agenda, ogni settimana più o meno le domande sulle stesse ma cambiano e aggiorni quello che è la tua situazione, cosa ti è successo questa settimana, cosa stai aspettando che succeda la prossima. Poi abbiamo ogni settimana la mystery question, quindi uno a turno viene fuori con una domanda che è volta a conoscere meglio i tuoi colleghi, quindi non so... Ma che storie! Esatto, quindi possono essere, che ne so, domande del tipo dimmi due cose vere su di te, una falsa e il team deve indovinare piuttosto che cosa ne pensi della parola avere successo, qual è il tuo punto di vista o quali sono i libri che ti piacciono. E quindi hai tutte queste situazioni in cui puoi interagire con i tuoi colleghi e ti senti parte del team, non ti senti isolato da solo a casa. Sì, perché infatti il grande limite secondo me è tipo quando si è trasferito qua quel discorso coronavirus, nel senso tipo solo Zoom call eccetera, però parlare solo di lavoro pian piano si affievolisce perché effettivamente ti manca tutto quel discorso di rapportarti con l'altro che comunque diventa sempre un pochino a perdersi. Che poi tra l'altro ad esempio qua io ho visto che all'inizio si era partiti tutti con le videocamere, tutto super acceso, poi pian piano tutto si spegne. Non so se ti è mai capitato che tutti spiegano le videocamere, tutti spiegano i microfoni, ti sembrano di parlare con il nulla molto spesso. No, no capisco. No, fortunatamente appunto a noi non ci capita sempre videocamere on, cioè anzi se qualcuno per qualche motivo è in giro la deve tenere off, si scusa. Poi tutti molto... Guarda, una cosa anche per esempio diversa, ma è che è stupenda dell'azienda da remoto interamente e soprattutto quando è un team con diversi fusi orari è che si toglie completamente il concetto delle 9 e 5. Ok. Quindi tu non... Per esempio ho sentito tanti miei amici in Italia quando c'è stato il Covid che dovevano lavorare, comunque sei sempre vincolato che il tuo capo se ti scrive tu in 30 secondi devi rispondere perché sennò lui pensa che stai cazzeggiando. Sì. Ecco, questa cosa non esiste nella mia azienda perché tu hai da contratto, devo essere tre ore di accavallamento con il fuso orario australiano perché il management team è in Australia e vogliono che almeno per tre ore tu sia reperibile se c'è bisogno di fare una call o qualsiasi cosa. Ok. Il resto è totalmente up to you. Quindi vuoi... Io mi sveglio la mattina, apro Slack un attimo, rispondo a due messaggi, prendo e me ne vado al bar un'ora a fare colazione. Torno alle 10, ricomincio a lavorare, poi faccio pausa, pranzo. Insomma è molto flessibile, molto dinamico e a livello di vita personale secondo me ti cambia completamente. Se io devo andare a fare una commissione un'ora, non devo chiedere il permesso. Esatto, esatto, quello volevo chiederti. Prendo, vado. Cioè semplicemente devo controllare la mia azienda, che non ci siano dei meeting pianificati, devo essere sicuro che nessuno ha bisogno di me e basta. Ma senza chiedere, cioè sono cose che lo sai perché se c'è un meeting di solito è scritto se il mio collega o il mio capo mi scrive possiamo fare un meeting, anzi lui non mi chiede possiamo fare un meeting, mi dice sei in giro, tipo sei disponibile, se sono fuori dico no guarda, se no sì facciamolo. Ma come fai ad equilibrare la tua giornata? Tipo cioè ad esempio adesso a me è abbastanza chiaro tu durante la giornata ti organizzi come se fossi un imprenditore di te stesso alla fine perché tu hai degli obiettivi da fare durante la giornata e non importa che ci metti due ore o otto ore se non questo discorso dell'accavallamento. Ma come ti organizzi per evitare di dedicarti alla giornata al lavoro o per essere improduttivo? Perché chiaramente secondo me è un po' difficile qua da gestire. Cioè non è per tutti ecco. Secondo me devi trovare il tuo equilibrio. Tipo io e anche qui il lavoro da remoto secondo me varia da persona a persona. Per esempio io ho colleghi che adorano il lavoro da remoto ma loro vanno costantemente fuori a lavorare. Vanno nella biblioteca, vanno al bar. Quindi io ho fatto sei mesi che ero contentissimo poi ho avuto un momento di down totale nel senso che mi sentivo un po' alienato di stare a casa e ho iniziato prima a andare a lavorare due ore al giorno fuori. Quindi andavo in un bar, lavoravo due ore e già così mi spezzavo la giornata e anche la tua produttività migliora perché se sei in down non riesci a lavorare. Chiaro, sì, sì. Poi avevo fatto addirittura uno step superiore quindi avevo detto mi sono un po' stufato di stare qua posso viaggiare quindi prendevo delle località a caso in Cina che non erano né troppo lontane né troppo vicine magari erano 5 ore di treno veloce e io me ne andavo 3-4 giorni là lavoravo 3-4 giorni là poi la mia compagna magari mi raggiungeva nel weekend e stavamo il weekend a visitare quell'area e poi me ne tornavo a casa. E ti dà questa flessibilità che per me è fuori di testa nel senso comunque sei libero di fare quello che vuoi ti devi organizzare i tuoi tempi però decidi tu il ritmo cioè se sai ci sono giornate dove sono completamente in down non lavoro io quei giorni ma non ho delle consegne va bene non lavoro nel senso che non lavoro nulla però magari lavoro oggettivamente lavoro 2 ore, 3 ore il resto faccio altro perché non ho la testa ti organizzi te in base alle idee ma nessuno è lì a controllare che tu stai lavorando che rispondi su Slack per me ti cambia la vita anche solo la flessibilità che ho io chiaramente ero in Australia la mia compagna ha avuto un'opportunità in Cina se io non avevo un lavoro da remoto che adesso è una cosa drastica ma pensa anche solo tu vivi a Rovigo e la tua compagna ha un'occasione a Torino sì 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 è un problema nel senso anche a livello di vita personale quindi perché no sì sì anche perché comunque adesso il mio è un lavoro un po' particolare perché comunque devo essere molto spesso fuori cioè devo essere fisicamente cioè per girare foto e video comunque devi finché non inventano tipo il robottino che posso pilotare da remoto secondo me devo esserci fisicamente ma chi lo sa e no in verità tipo che poi tra l'altro qua ti apre chiudo una parentesi non so se hai visto tipo LOL tipo su non so se tipo c'è Amazon Prime lì da te o se lo puoi tipo accedere comunque lo posso vedere però non diciamo non esiste non ufficialmente ok c'era questo programma questa serie tv in pratica in cui c'era tipo una casa tipo Grande Fratello che facevano tipo non dovevano ridere vabbè tipo una cosa che hanno detto tutti però non è questo il tema cioè quella cosa che sono rimasto più colpito io è che questa casa qua aveva tutta una serie di telecamere al suo interno che comunque permettevano una regia da remoto che era fotonica cioè tipo lì probabilmente tipo la potenza di Amazon di poter disporre di N.000 soldini per fare regia mi aveva fatto tanto pensare perché tipo lì ho visto tipo ah vedi che comunque puoi girare video e fotografia comunque anche da remoto con un certo tipo di approccio molto più cinematografico che non tipo tipo il Grande Fratello in cui tipo hai le stanze tipo videocamere in cui tipo prendi tutto ed era stato super interessante vabbè apro e chiudo con questa cosa che mi era venuta in mente ma tipo però tipo anche nel tuo caso per esempio nella tua professione vabbè è un po' particolare perché tu immagino che sei più libero professionista quindi comunque sei autonomo nel gestirti la giornata e quant'altro però mi immagino anche un fotografo un videomaker che lavora assunto presso qualche agenzia e quindi deve andare in giro a fare shooting comunque sì fisicamente tu quando devi andare a fare lo shooting devi andare a farlo però nessuno dopo ti obbligherebbe nelle restanti ore o giorni della settimana di andare in ufficio per far vedere che sei lì otto ore esatto infatti secondo me tutti i lavori comunque hanno una parte che effettivamente potresti far da remoto cioè ci sono alcuni lavori che hanno dei limiti ma la maggior parte non c'è più questa grande necessità ma tipo il sabato e domenica ad esempio te come te la gestisci cioè è giornata lavoro o comunque fai qualcosa o proprio tipo è fuori dal mondo lavorativo no è fuori non può capitare come in qualsiasi agenzia che magari c'è qualche deadline che dobbiamo rilasciare così quindi può essere che sei disponibile o magari però di base sabato e domenica sei off può capitare durante la sera diciamo perché per esempio ho un collega che è nei UK quindi più o meno è tarato col vostro fuso orario lui è lo sviluppatore iOS e quindi a volte ha bisogno di feedback cose può capitare però ripeto non lo senti minimamente come un peso per via della flessibilità che hai durante il giorno ok e quindi non lo vedi come che palle mi sta rompendo alle 9 di sera è un tuo collega che sai che da lui sono poverino le 9 di mattina ha bisogno di magari 5-10 minuti o due messaggi per confrontarsi e basta finita lì sì sì perché comunque diciamo che quel piccolo momento di disagio comunque è bilanciato da questa grande flessibilità che tu puoi avere di appunto avere un orario che decidi te super interessante ma secondo te quali sono le cose basiche per far sì che diciamo hai un approccio corretto a questo tipo di modo di lavorare cioè tipo ad esempio io penso banalmente tipo una connessione di internet che funziona secondo me tipo è indispensabile sì no assolutamente secondo me allora sembra una stupidata però anche come tu imposti la tua postazione a casa per me incide sulla qualità o meno del lavoro ti faccio ad esempio ho dei colleghi nelle Filippine e a volte soprattutto all'inizio erano proprio arrabattati nella loro postazione con non so buio totale nella stanza e comunque è un po' come se tu vai da un cliente e ha un bel un bel ufficio oppure vai da un cliente che ha uno schifo di ufficio la sensazione è la stessa quindi secondo me devi essere consapevole che dove tu lavori e dove interagisci con gli altri comunque ha un impatto sulla qualità della relazione che stai avendo la connessione come dici te è fondamentale assolutamente e i microfoni il microfono per parlare è quello però dai anche delle cuffie delle cuffiettine vanno vanno più che bene ok e quella con l'approccio diciamo con le persone cioè tipo ad esempio nelle call che fai immagino tipo zoom con altri strumenti vai dritto all'obiettivo quindi pochi giri di parole vai subito sul concreto o ad esempio per scaldare un po' l'ambiente magari comunque ci sono dei tempi morbidi in cui te le racconti un attimo e poi parli perché tipo ad esempio quando l'approccio classico è ciao come va c'è tutto bene e parli un po' e dopo tipo ah ma comunque ti chiamavo per esiste anche lì questa cosa? no no esiste assolutamente poi dipende dal collega per esempio generalmente c'è questo momento in cui spendi cinque minuti solo a dire come va di qua e di là ho dei colleghi specialmente americani che con loro ma non è fuori luogo sono persone dirette quindi a volte salti nella 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 call parli direttamente quello che devi parlare e ti saluti poi a volte può capitare che hai finito di parlare delle cose di lavoro parli delle cose personali però è molto flessibile e un po' dipende dalle persone un po' come in ufficio ci sono persone con cui vai lì inizi convenevoli e finisce che parli mezz'ora di convenevoli e cinque di lavoro e persone invece che vai direttamente parli di business direttamente ok te ad esempio come opinione personale quale preferisci di queste due no a me piace un minimo di convenevoli giusto per per avere quel contatto umano perché ripeto soprattutto lavorando da remoto a volte è vero che la senti la solitudine quindi quelle volte che fai le call perché chiaramente cerchi di limitarle all'essenziale perché sennò viene meno anche tutto il discorso del remoto indipendenza così un minimo e poi è bello entrare in intimità cioè io è assurdo perché ho dei colleghi che li ritengo a tutti gli effetti dei miei amici e non li ho mai visti e con l'azienda prima del covid praticamente questa azienda organizzava una volta all'anno dei ritrovi quindi pagavano il biglietto aereo ovunque tu sei per andare in Australia e fare 3-4 giorni tutti assieme ok e l'idea di vederli sarà stranissimo cioè perché sono a tutti effetti miei amici alcuni però non li ho mai visti di persona no no super super interessante ma anche strumenti ad esempio utili che tu usi o che reputi adesso tipo mi nominavi Slack o Slack a seconda della pronuncia che per chi non conosce un programma di messaggistica altre cose che reputi indispensabili dal punto di vista proprio degli strumenti software ma secondo me dipende un po' dal tuo modello tecnico magari quelli che noi usiamo noi usiamo molto Slack Notion per esempio Product e Team di sviluppo usiamo Notion per tutto quello che è documentazione e Project Management che è tipo un Evernote tipo un OneNote tipo un programma per appuntarsi cose in realtà è diventato molto di più di quello è partito così ma sta diventando a tutti gli effetti una sta facendo concorrenza a software come Asana perché noi per esempio abbiamo tutto il sistema di ticketing backlog in Notion quindi è partito in un modo ma sta evolvendo con il team di marketing per esempio usiamo Asana che è tipo il sito web dove tipo hai task che tipo tu fai tipo non so devi fare questa cosa qua quel giorno e tipo gli spunti per dare tipo una specie di avanzamento del lavoro se non sbaglio esatto esattamente e poi usiamo cos'altro Zoom per tutte le chiamate e poi nient'altro in particolare cioè ognuno lo può essere sui per scambiare i file tra di voi cioè lavorate tipo non so su Dropbox Google Drive cosa del genere o dentro Dropbox sì anche se per esempio noi nel product non ci scambiamo praticamente nulla usiamo Figma come tool per il design quindi è tutto nel cloud tutto è sincronizzato in real time quindi capita di rado che si scambia qualcosa e sì o Google Drive o Dropbox per lo scambio dei file guarda hai detto una cosa tipo ad esempio ormai a me sta strettissimo tipo software come Photoshop Lightroom eccetera eccetera che non ti permettono di lavorare in contemporanea cioè a me questa cosa qua tipo inizia ad avere una sensazione di pre-storia perché tipo non so ad esempio stai lavorando con un tuo collaboratore mi sembra una cosa fuori di testa che io devo chiudere tipo il file farlo aprire ad un altro e far sì che dopo me lo rispedisca cioè mi sembra proprio di essere da pre-storia invece tipo Figma se non sbaglio tipo che è il software di progettazione interfaccia eccetera puoi lavorare assieme sì 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 poi in real time puoi entrare modificare le cose il file non è fisicamente sul tuo computer ma è online quindi sul web puoi accedere a Figma con l'applicazione desktop o direttamente dal browser e no non è comodissimo mi ha fatto piacere che mi hai menzionato Adobe perché tipo io è una suite che odio tutti ufficialmente ufficialmente sono l'ho rimossa dai miei programmi ho comprato Affinity Photo Affinity allora su questa cosa qua tipo la domanda è come ti stai trovando allora bene devi c'è una curva in cui praticamente vent'anni che usi Photoshop hai dei comandi che sono lì no il shortcut quelle cose lì tante cose sono uguali alcune sono leggermente diverse però ti dico mi trovo praticamente quello che devo fare lo faccio esattamente i comandi si chiamano alcuni in un modo diverso ma sono gli stessi tante volte se tu guardi un tutorial per Photoshop è lo stesso perché chiaramente è pieno puoi la stessa cosa riutilizzarla come concetto in Affinity quindi e costa uno spunto mi hai dato un ottimo spunto perché in pratica tipo io anche io non sono tantissimo amante di quei siti purtroppo tipo è una cosa è tipo è il word e il powerpoint cioè per me è la stessa cosa che tipo tu dici ci sono mille programmi migliori però sono di utilizzo comune quindi devi capire un attimo che tutti lo usano però il discorso effettivamente i Affinity Photo lo sto usando e al di là dell'aspetto di licenza che vabbè lo sai benissimo tipo costa veramente pochissimo dal punto e poi tipo hai la licenza vita per cui vabbè no la cosa interessante secondo me è che Photoshop si porta dietro come tutti i software nati venti anni fa tutta una gerarchia che c'è i programmi che fanno tutto però tipo trovi il menu del sottomenu con tipo un'opzione diversa che è invece tipo Affinity è un programma fresco che comunque parte da Photoshop perché è il plagio ed è abbastanza chiaro questa cosa qua ma secondo me è fatta con un'ottica molto più intelligente cioè tipo per dirti per dirti i drag and drop vedi che sono fatti sono molto più freschi come è un programma che vedi anche solo gli smart object per dire in Affinity by default qualsiasi filtro cosa è uno smart object mentre invece in Photoshop devi convertire tutto quindi ha delle cose come dice te è chiaramente una sorta di plagio però ti dico se loro avessero fatto una cosa totalmente diversa l'utenza non l'avrebbe voluta perché io che uso da vent'anni Photoshop se devo da zero rimparare tutto no cioè non cambierai mai esatto esatto però tipo anche su Affinity mi pare che però non puoi lavorare in contemporanea quindi nonostante questo quel limite c'è però guarda è interessante questo discorso una cosa che mi viene da dire in generale alla gente è di non affezionarsi ai programmi ma di imparare di imparare i concetti che stanno dietro al programma esatto quindi anche Photoshop ha delle funzionalità ma tu devi capire perché stai usando quella funzionalità non il comando specifico e io sono uno che cambia programmi così cioè prima usavo Sketch sono passato a Figma ho provato in Vision Studio ho provato ad OBSD per cancellarlo dopo 30 secondi anche nel montaggio per hobby lo sai mi diletto con fotografia e video usavo Final Cut adesso sto provando Da Vinci Resolve ok i concetti sono quelli cambia l'interfaccia quindi l'importante secondo me è sempre lavorare capendo il perché stai facendo una cosa il programma è solo il mezzo sì 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 guarda ritorno solo un attimo al discorso nomadismo digitale secondo te è una cosa che ormai si è radicata un po' dappertutto e quindi come dire tutte le aziende tutte le persone dovranno affrontare questo grande tema o è una cosa aspetta che è partito il campanello o è una cosa che è contemporanea e magari durerà solo nei prossimi anni e poi sarà una cosa che vedi che va un po' a sparire io spero che sia una cosa che atticchisce in realtà perché ha tanti benefici anche dal punto di vista proprio della società nel senso chiaro che dipende dai settori ci sono settori che sono più predisposti a questo tipo di modalità altri meno però credo che abbia dei benefici se penso anche solo anche solo all'inquinamento della gente che tutte le mattine deve prendere andare in ufficio è una cosa cioè senza prezzo già solo quella bisogna strutturarsi secondo me lo scoglio più grosso specialmente in Italia è la mentalità che io ti pago per otto ore e otto ore tu devi lavorare quella perché a prescindere che fai da remoto o meno quello lì è lo scoglio più grosso io non sono contro andare in ufficio a te può piacere avere un ufficio a Sydney avevano degli uffici bellissimi però dovrebbe essere una scelta è difficile è una scelta soprattutto azienda secondo me deve essere una scelta aziendale e non del singolo perché se alcuni lavorano da remoto e altri no subentri in quella dinamica che ti dicevo con l'azienda con cui non andavo d'accordo quindi è una scelta aziendale di dire sono un'azienda da remoto sono un'azienda fisica e ti strutturi di conseguenza guarda la mia opinione secondo me è toccato il tasto delle otto ore che io penso che sia il concetto che va sradicato c'è il concetto di essere pagati tempo denaro è la cosa che tipo va cioè ormai è un concetto che non ha più senso perché effettivamente uno dice ma se io sono bravo e ci metto due ore per fare un certo tipo di ragione di obiettivo perché devo far finta di lavorare altre sei ore quando magari potrei andare a farmi un giro in un posto che non sono mai stato o dedicarlo alla famiglia o alla mia salute personale e secondo me sì questa cosa qua è tanto radicata ma io personalmente vedo che le cose si stanno muovendo tipo banalmente anche a livello di preventivazione miei dei lavori cerco di escludere tutto quello che è legato tempo performance cioè tipo di che cosa hai bisogno e io ti dico questa cosa qua si può fare secondo me in mezza giornata una giornata quello che è ma comunque non è che sei pagato ad ore cioè per me quel progetto lì ha quel tipo di significato economico ed è una cosa che secondo me prima o poi tutti ci andranno incontro magari chi è un po' più indietro vabbè ci sta però pochi di noi ormai avvitano bulloni durante la giornata e quindi x bulloni x tempo cioè se sono tutti lavori progettuali o comunque di pensiero creativo eccetera effettivamente c'è chi sarà molto bravo e ci metterà due o tre ore e chi magari è un pochino più lento però è giusto c'è spazio per tutti il concetto è se tu ci devi mettere nove ore benissimo cioè lavora pure nove ore chi magari però ce ne mette quattro secondo me è giusto che sia cioè per assurdo con la mentalità vecchia dato che ci hai messo quattro ore ti pago la metà quando in verità il concetto è esattamente il contrario cioè ci ho messo la metà perché sono più bravo a farlo no esatto e soprattutto le aziende tendono a avere questo approccio con i loro dipendenti ma non con i loro clienti perché con i loro clienti al cliente non gli deve interessare quanto tempo ci metti a fare un sito web il valore del sito web è questo quindi anche quando io assumo qualcuno in realtà tu mi stai assumendo per le competenze e l'esperienza che ho esatto non per le ore perché tu mi chiedi un portfoglio mi chiedi di dimostrarti cosa so fare quindi in realtà tu mi paghi per la mia competenza non per quanto ore lavoro sto seduto al computer e poi in ambito creativo si apre la parentesi io per esempio sono la classica persona che non sto a smanettare sei ore su un file facendo mille cose magari sto ma davvero un'ora sul divano a pensare e quando vado al computer ho già in testa quello che voglio fare e quindi faccio in un'ora quello che magari qualcun altro farebbe entro ore ma non è che io sono più bravo o il mio metodo è il mio modo di fare ci sono persone impulsive persone analitiche ognuno è fatto in modo diverso sì 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 assolutamente no sono tutti secondo me grandi temi che prima o poi tutti si dovranno scontrare con queste cose qua cioè io penso che il cambiamento che c'è stato in questi in quest'ultimo periodo comunque è una cosa che è stato un acceleratore più che un cambiamento cioè la direzione era quella e tutto quello che abbiamo visto in verità sull'accelerato un certo tipo di temi forse non ha accelerato neanche così troppo come dicevi te nelle pillole precedenti però comunque effettivamente il senso è c'è una direzione abbastanza delineata e si va tutti assieme cioè dopo uno può anche remare contro però sai che stai andando contro una mentalità che comunque non ha i valori corretti del tempo in cui vivi adesso cioè vent'anni fa aveva senso probabilmente fare un tipo di ragionamento oggi un altro e molto probabilmente tra dieci anni avrà senso un'altra tipologia di approccio cioè l'importante è adattarsi a quello che sta succedendo ma sì perché il prodotto su cui stiamo lavorando è talmente diverso rispetto a quello di dieci vent'anni fa cioè se io ti devo curare la strategia sui social non mi puoi pagare non mi stai pagando per i dieci minuti che ci metto a farti il post mi stai pagando perché io so come impostarti la strategia mi stai pagando per l'esperienza che ho nel farti la strategia non per il fatto che devo stare otto ore a guardare facebook le analytics cioè è limitato è un concetto ormai cioè secondo me non è che è sbagliato è che è limitante rispetto alle potenzialità che hai oggi principalmente avevo ascoltato su un podcast tra l'altro l'intervista di un ragazzo che lavorava a netflix e praticamente diceva proprio queste cose qua che ormai tipo quelle mega multinazionali un pochino diciamo avanti dal punto di vista di approccio non hanno più orari non hanno più ferie non hanno più niente cioè nel senso tu fai quello che vuoi l'importante è che a fine giornata hai fatto questa scaletta di obiettivi dopo se le hai raggiunti in una maniera o nell'altra a me non me ne frega niente principalmente l'importante è che porti a casa quel tipo di risultato eh sì no no purtroppo ci vorrà tempo perché ci vuole anche una mentalità imprenditoriale di un certo punto perché non deve non deve diventare più ti spre io so che tu ci puoi mettere di meno quindi metto degli obiettivi in modo tale che tu hai per forza otto ore occupate no non è questo non è questo l'obiettivo l'obiettivo è lavoriamo assieme mettendo gli obiettivi che consigliano con la realtà dei fatti e il fatto che tu vuoi che io lavori e non vada in spiaggia però e ci vorrà tempo secondo me però speriamo che si arrivi a quello insomma la direzione come dici te è quella giusta guarda Filippo io ti ringrazio tantissimo di tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto a me ha fatto super piacere e spero altrettanto anche a te più che altro è sempre bello confrontarsi con persone che secondo me sono molto al passo coi tempi e io ti considero uno molto bravo che sicuramente sa fare quello quello che deve ma secondo me tipo mi trovo parecchio in feeling in linea con quello che pensi ne avrei un milione e mezzo di cose ancora da dirci ma non vorrei rubarti veramente troppo tempo ti ringrazio se hai piacere chiaramente ti rinviterò sul canale più che volentieri insomma anche per sapere come stanno in Cina perché comunque gli argomenti sono veramente tantissimi e se stai lì ancora per un altro po' di tempo di cose da raccontarci sicuramente ce ne abbiamo spero che sia stato di ispirazione anche per chi ci ha ascoltato magari chi ha bisogno di confronti eccetera insomma invito sempre a scrivere qualche commento perché può essere l'occasione di crescita per tutti e Filippo ti ringrazio ancora del tuo tempo grazie a te guarda è stato davvero un piacere grazie mille a presto ciao ciao Filippo grazie a te guarda